Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il notiziario di Media News. Potrebbe entrare in vigore già la prossima settimana l'ordinanza che prevede le targhe alterni a Palermo nelle zone a traffico limitato. Domani sera il sindaco incontrerà sindacati ed associazioni. Per combattere l'emergenza smog a Palermo domani sera il sindaco Diego Cammarata proporrà a sindacati ed associazioni di categoria un nuovo piano traffico. Il documento prevede targhe alterne dal lunedì al sabato, più probabilmente dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, nei due perimetri delle zone a traffico limitato, quella che va da Viano Tar Bartola alla stazione centrale e l'altra che arriva fino a Viale Strasburgo, esclusi motociclette e scooter. Se il confronto sarà positivo, l'ordinanza potrebbe essere firmata subito e il piano potrebbe scattare già dalla prossima settimana. Considerato gli altissimi livelli di smog registrati in questi ultimi giorni, è sempre in attesa del nuovo piano traffico che prevede l'ingresso al centro solo alle auto meno inquinanti e munite di pass. Possibili sti tassisti che avevano chiesto nei giorni scorsi la chiusura totale del centro dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Le associazioni di categoria, Confcommercio, Confesercenti, Cidec e Confartigianato avevano già proposto in precedenza le targhe alterne, ma per tutta la città. In ogni caso hanno delle riserve a far partire il provvedimento 20 giorni prima di Natale. Secondo le associazioni, il Comune potrebbe predisporre tutto e posticipare l'ordinanza al 2 gennaio. I sindacati, infine, sono disposti ad accettare le targhe alterne, solo però come alternativa alle ZTL. E questa mattina è stata inaugurata la presenza del sindaco Cammaratta e di alta autorità il cantiere dei lavori per la realizzazione a Palermo di una pista ciclabile che collegherà Piazza Lennon all'Acqua Santa. L'iniziativa contribuirà allo smaltimento del traffico automobilistico cittadino e permetterà agli appassionati delle due ruote di avere uno spazio in più dove divertirsi. I lavori dovrebbero essere ultimati entro un anno. Finalmente stanno portando al compimento delle opere che hanno già previste da diverso tempo e ora si è avuta l'opportunità di realizzarle e portarle a disposizione di tutta la cittadinanza che vuole utilizzare questo mezzo di trasporto o di svago, possiamo anche dire. La pista, inserito, viene realizzata attraverso un allargamento della sezione del marciapiede realizzando sulla sede stradale una ampiezza destinata al ciclista che va da 1,20 m a 1,50 m a secondo della sezione della sede stradale e se consente o non lo consente. Viene realizzata appunto collocando una nuova urlatura o riposizionando la urlatura esistente come state vedendo proprio qui in via Cristoforo Colombo e viene realizzata attraverso poi un in particolare il calcestruzzo e colorato in modo da differenziare il percorso dei bedoni da quello dei ciclisti. Prime valutazioni della Cigelle sul nuovo piano tariffario per l'acqua. Una famiglia media a Palermo sostiene il sindacato pagherà il 40% in più. A Palermo per una famiglia media palermitana l'acqua aumenterà del 40% e questo è uno degli effetti dell'applicazione delle nuove tariffe. Dopo l'incontro con l'assessore Raffaele Loddo che venerdì scorso al tavolo con i sindacati non ha voluto portare il piano tariffario predisposto al soggetto che gestirà per 30 anni il servizio idrico integrato, i sindacati tornano all'attacco con una prima analisi delle tariffe di cui si discuterà di nuovo alla conferenza dei sindaci riconvocata per domani. Secondo la Cigelle la prima fascia tariffaria cosiddetta agevolata è riferita ad un risibile consumo mensile massimo di 6,5 metri cubi. Non è prevista nessuna diversità tariffaria tra le varie tipologie di utenza diverse dalle domestiche. Sono scomparse le tariffe da applicare in funzione delle fasce di reddito. Per Maurizio Calà, segretario generale, Michele Palazzolo del Dipartimento Ambiente della Cigelle di Palermo, da un primo raffronto con le tariffe attualmente applicate dall'AMAP rispetto a quelle che saranno introdotte dalla società Acque Potabili Siciliane, saremmo di fronte ad un aumento per la città di Palermo del 29%, con un consumo annuo di 140 metri cubi, che diventerebbe il 40% nel caso il consumo si attestasse al valore di 200 metri cubi, che è il consumo della famiglia media palermitana. Le tariffe, concludono i sindacalisti, continueranno a crescere a partire dal primo anno in poi anche per un altro motivo. All'AMAP, che gestirà il servizio idrico a Palermo, andranno 1,19 euro al metro cubo a fronte di un prezzo finale di 1,30 euro al metro cubo. La differenza di parecchi milioni di euro sarà acquisita dall'APS. Nei fatti, la sua compartecipazione con il 30% agli investimenti per le reti e gli impianti sarebbe sostenuta dai consumatori. Presentato stamattina un protocollo d'intesa fra il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Aso 6 di Palermo, un documento volto ad integrare le rispettive competenze istituzionali inerenti alle attività psicologiche nelle emergenze. Formalizzare la collaborazione già in atto dal 2005 in occasione dell'emergenza per il disastro aereo della TR-72 precipitata a largo di Punta Raisi e ribadire l'importanza della dimensione psicologica e psicosociale nelle emergenze. Sono queste le idee che hanno spinto il Dipartimento regionale della protezione civile e l'Aso 6 di Palermo a firmare il protocollo d'intesa odierno, un documento quest'ultimo che vuole costituirsi come progetto pilota per la sperimentazione di un modello organizzativo da estendere poi sul territorio regionale nel resto d'Italia. Fatto quest'ultimo dovuto all'esclusività tutta siciliana di un'iniziativa di tale portata che mira l'integrazione di un'equipe psicologica del servizio sanitario regionale all'interno dell'articolata macchina organizzativa degli interventi di protezione civile nei casi di maxi emergenza per la tutela e il recupero della condizione psichica delle vittime e di tutti i soggetti coinvolti in un evento catastrofico. Con un protocollo d'intesa che coinvolge psicologi e prevede la costituzione di un'equipe di assistenza in caso di emergenza che possa mobilitarsi rapidamente e dare la prima assistenza a chi ne ha bisogno in un evento di protezione civile. Le reazioni psicologiche in precedenza non erano state considerate di primaria importanza in un evento catastrofico. Attualmente invece è obbligo di legge considerare anche gli effetti psicologici in situazioni di emergenza e di catastrofi. Questo protocollo prevede non soltanto una preparazione, un intervento psicologico in fase di emergenza ma anche in situazione di quiete. Questo è molto importante perché prevenire e conoscere una situazione limita al minimo le situazioni di panico e i traumi psicologici. Un altro protocollo è stato firmato questa mattina, questa volta l'assessore regionale e beni culturali linoleanza per sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio nazionale coinvolti 5 teatri d'arte di Palermo. Un cofinanziamento spalmato nel triennio 2007-2009 è pianificato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e dall'assessorato regionale ai beni culturali a sostegno del progetto Primo Teatro. Il progetto che gode anche di un ulteriore sostegno da parte della provincia regionale e del comune di Palermo mira ad elevare il livello qualitativo e culturale del teatro siciliano sostenendo lo sviluppo delle attività di 5 teatri d'arte che si sono particolarmente distinti per il loro fervore artistico. La pianificazione ponderata e triennale del finanziamento testimonia il riconoscimento da parte delle istituzioni del ruolo centrale del teatro nella cultura e nella tradizione siciliana ed i criteri meritocratici adottati nei teatri prescelti che sono il teatro libro in controazione, Tiates, Fidarte e Cuticchio, il teatro Calibaldi Unione Teatri d'Europa e il teatro dei quartieri. Oltre a numerosi spettacoli in calendario, il finanziamento sosterrà numerosi laboratori teatrali al fine di formare e valorizzare i talenti nostrani, spesso costretti ad emigrare altrove per tesorizzare le loro doti artistiche. È un progetto triennale dove si mette in mostra la qualità del nostro teatro che aggiunta all'approvazione della legge regionale proprio dalla dimostrazione di come finalmente è cambiato il sistema anche culturale rispetto al teatro, nel senso che puntiamo molto più sulla qualità che è sull'assistenzialismo. I cinque teatri storici di Palermo, molto importanti, hanno presentato assieme a provincia, comune e regione un progetto che è arrivato tra i primi a livello nazionale e che quindi nei prossimi anni coinvolgerà certamente tutta la città di Palermo, le periferie e la provincia in una proposta teatrale di altissimo spessore. I giovani sono intanto coinvolti nei laboratori che noi facciamo per diffondere un'idea critica e profonda del teatro. Noi ci interessa il teatro profondo, non il teatro della facile consolazione. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, auguro a tutti un buon proseguimento di serata, arrivederci.